Buongiorno a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti per una nuova puntata. Oggi inizialmente nella prima parte della trasmissione in compagnia di Andrea Piras, referente territoriale di Sardegna Solidare e dirigente dell'Auser. Grazie Andrea, puoi prendere il microfono per aver accolto il nostro invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea Piras, qui a mattino 40 e di casa, con lui spesso anche io partecipo a delle iniziative che organizza insieme alla moglie, Rosi Orecchioni, che è la presidentessa, oggi bisogna utilizzare i nomi di ruoli al femminile, bisogna declinarli così, giustamente è dell'Auser. L'iniziativa è molto importante per il territorio, per il comune di Carbonia, che svariano su molti argomenti, ma principalmente poi su quelli del volontariato, soprattutto poi in riferimento ai giovani, come l'iniziativa che si terrà il 29 di marzo insieme agli studenti dell'Istituto Ciusa, nella quale verrà proiettato un film che è l'Era Glaciale e la finalità di questa iniziativa, come sempre, è quella di avvicinare i giovani studenti, i ragazzi al mondo del volontariato. Iniziamo Andrea a illustrare di che cosa si tratta. Sì, innanzitutto il nostro obiettivo è quello di formare i giovani, stiamo iniziando da quelli giovanissimi addirittura, per educarli alla pratica del volontariato. La solidarietà è un punto di riferimento sociale importante e quindi noi intendiamo portare avanti questa formazione in modo che in un futuro, quando saranno maggiorini, riusciranno anche a trovare lo spazio e il tempo per fare del volontariato. Oggi è strettamente necessario, non più utile proprio. Come si acercerà l'iniziativa? Allora qua abbiamo il programma, parte alle ore 9, intanto si terrà nella sede di Via Liguria. Assolutamente. Poi andrete a prendere gli studenti, mi pare di capire. Andiamo a prendere gli studenti noi nell'Istituto, che il Ciusa è, diciamo, all'altra parte della strada dove siamo noi, quindi è vicinissimo. Prendiamo gli studenti, li accompagniamo nella nostra sede con i nostri volontari. Dopodiché ci sarà un breve saluto della nostra Presidente Rosa Orecchioni. Dopodiché ci sarà l'assessore alla formazione e l'istruzione del Comune di Carbonia, Carlo Amario, che saluterà l'iniziativa e soprattutto gli studenti. Dopodiché, tra il primo e il secondo tempo, ci sarà la merendina, quindi la ricreazione vera e propria, come giusto che sia, insieme ai nostri volontari. Il secondo tempo, poi il saluto lo facciamo nel parco, c'è un bel parco alberato di fronte alla nostra sede. Lo faremo lì, saluteremo i ragazzi e li riaccompagneremo noi stessi nel loro istituto e quindi la giornata si terminerà di fatto così. Abbiamo previsto anche la presenza di una squadra di primo soccorso, quindi non abbiamo lasciato niente al caso. Pensiamo che sia un motivo d'orgoglio anche per gli istituti di Carbonia questo nostro impegno, impegno importante, quindi contiamo di ripeterlo, perché è chiaro che nella nostra sede non possono starci più di 80 studenti. A quel punto dovremmo fare in più riprese e accontentare anche gli altri, perché l'istituto non è certo di soltanto 80 studenti. E poi l'intenzione è di continuare anche con gli altri istituti. In questo caso ci sarà da superare i problemi del tipo del trasporto, perché far venire magari da via Roma, sino a via Liguria, intere classi sarà un pochettino difficoltoso. Un'iniziativa che si colloca nell'overo di quelle che già state portando avanti da molto tempo, ovvero quelle di sensibilizzazione delle persone più in generale, ma degli studenti, soprattutto i giovani, le giovani generazioni, all'importanza che il volontariato ha in un'epoca storica come questa, nell'attuale contesto territoriale martoriato dalla crisi economica, dove spesso molti cittadini. Ho visto dei dati, proprio in questi giorni, sulla deprivazione nelle famiglie, soprattutto poi degli anziani, che sono incredibili, sono drammatici. In questo momento ci sono i congressi della CISL a livello regionale, quindi ovviamente, come sempre succede in queste assise, si elaborano, si espongono, tutta una serie di statistiche, di dati, ma la situazione è grave, cioè sta per andare su di controllo, perché poi molti di questi anziani, spesso senza parenti, figli, o anche quando ce li hanno magari gli stessi figli con difficoltà, se non avessero l'aiuto dei volontari sarebbero soli? Sicuramente sì, il volontariato ha fatto una rete incredibile, siamo intorno ai 2000 associazioni in Sardegna, che sono regolarmente iscritti al registro regionale, quindi è un dato di fatto importante. Siamo presenti come volontariato in qualsiasi comune, anche nei paesi più piccoli esiste il volontariato, e questo è il sistema di assistenza sociale orizzontale, noi siamo quelli che fanno qualcosa che l'istituzione non riesce a offrire, e quindi a quel punto in tutti i paesi, specialmente in questo territorio martoriato dalla crisi, la presenza del volontariato è determinante, e non mi riferisco soltanto all'assistenza, ma anche alla cultura, mettiamo Carbunia, stanno facendo cose eccellenti, riparlando di personaggi che hanno fatto la storia di questa città, come Pietro Cocco, fra poco ci sarà un convegno... A partire dagli ore 16.30 nella sala Astarte si terrà questo grande convegno dove partecipano i vecchi sindaci, molti protagonisti anche dell'epoca, che connoberò Pietro Cocco, il grande leader delle lotte operaie, il sindaco amatissimo dai cittadini di Carbunia, e anche questo è fare volontariato, perché abbiamo tante persone, le associazioni di volontariato stesse sono moltissime quelle che sono legate alla cultura, ma pensiamo alla protezione civile, pensiamo ai diritti oggi, con l'arrivo di tutti questi estracomunitari che stanno, non voglio usare il termine invadendo, ma insomma stanno iniziando ad essere anche tanti quelli che arrivano qui, quindi tutta la macchina del volontariato è una macchina che è diventata oramai indispensabile. Come è cambiata la legislazione in merito a questo settore, il cosiddetto terzo settore? So che è stata approvata una legge a livello nazionale che ha riordinato e regolato un po' quello che comunque era un mondo molto diffuso, ma che necessitava anche di regole chiare, perché non è che tutti possono fare volontariato o intervenire in determinati specifici modi, ad esempio sulle persone, se poi non c'è la giusta preparazione, le giuste competenze. Certo, allora la legge è stata fatta e sicuramente stiamo aspettando i decreti attuativi, questo perché per ogni specifica si dovrà poi fare un ragionamento come sarà applicata questa legge. Intanto devo dire che come sempre in Italia la legge è piaciuta a molti e altrettanti sono quelli che invece ne fanno una feroce critica. Cosa cambierà nel quadro regionale? Nel quadro regionale cambierà che l'area metropolitana avrà un centro di servizio, ad esempio, tutto suo, quindi in Sardegna che ne vantevamo uno di centro di servizio, che tra l'altro funziona anche bene, ne vantevamo due. Vuole dire che anche le risorse saranno comunque divise fra questi due centri. Sempre le stesse risorse? Sempre le stesse. O saranno maggiori? No, si pensa anche di meno addirittura, perché quando è nata l'idea si parlava di un quindicesimo degli utili delle fondazioni bancarie che mettevano a disposizione, un quindicesimo adesso mi pare che sia diventato un sessantesimo alla fine, quindi le risorse sono diminuite in modo vistoso e invece sono aumentate le necessità in questa direzione. Le risorse sono fondamentali per far sì che il volontariato si possa... Dobbiamo anche essere sinceri in questa direzione. Le amministrazioni comunali, non quella di Carbonio, ma in generale, non hanno più le risorse che avevano un tempo. C'è un altro fattore che penalizza il nostro settore del volontariato, che è quello del privato. Prima avevamo industrie che lavoravano e che quindi avevano previsto una percentuale dei loro utili che dovevano andare a finire a sostegno delle associazioni di volontariato. Oggi le industrie, alcune sono in stand-by, l'unica che è rimasta in piedi è la Portovesme, per cui io non ho neanche idea di quello che stia facendo, ma è sempre stata molto disponibile. Sicuramente miracoli non ne possono fare neanche loro, insomma. Ci vogliono risorse, ci vogliono risorse, molto spesso dobbiamo chiedere già alla popolazione, cioè a chi già versa in crisi, di darci una mano. Parlo in generale di tutto il volontariato. Ecco, questa è una situazione che penalizza non poco l'azione del volontariato stesso. Bene, chiudiamo un attimo questo capitolo, poi lo riprenderemo parlando di un'altra iniziativa importante che Sardegna Solidale e Lauser stanno organizzando per il prossimo mese, peraltro iniziativa alla quale avrò l'onore anche io di collaborare, per dirvi che in questi giorni è successo un fatto molto increscioso. A Carbonia la società Mineraria Calcio, che molti di voi conosceranno, quella di Beppe Rampini e Roberto, il figlio. Beppe Rampini è una bandiera storica del calcio in città, nel territorio, direi anche a livello regionale perché negli anni 60, corregimi se sbaglio, Beppe Rampini fu uno dei calciatori più in vista a livello regionale. Questa società è stata presa di mira dai ladri e dai vandali che domenica sera sono entrati nei locali che loro utilizzano in via d'Almazia e praticamente hanno sfasciato tutto, hanno rubato diversi oggetti, hanno danneggiato le porte, gli infissi, una stampante, una macchinetta del caffè, hanno trafugato dei palloni e addirittura un defibrillatore. Un defibrillatore che è obbligatorio per ogni società dilettantistica sportiva, secondo la nuova normativa, e che quindi per questa società è un qualcosa di molto importante, intanto per essere in regola dal punto di vista della legge, ma soprattutto per garantire ai giovani atletti una sicurezza dal punto di vista della salute, perché quando si gioca a pallone in maniera, in modo agonistico, ovviamente i pericoli sono sempre dietro l'angolo, soprattutto poi quei pericoli legati al cuore, e quindi al sistema cardiocircolatorio. E quindi è un episodio molto grave, molto deplorevole, che ha preso di mira una società, un gruppo di persone, che come Beppe Rampini hanno dedicato la propria vita integralmente allo sport, ma soprattutto all'educazione dei giovani, perché chiunque conosce Beppe sa che lui, più che un allenatore, per tutti i bambini, per tutti i giovani atleti, è come se fosse un nonno. Un punto di riferimento molto importante dal punto di vista educativo, quindi dal punto di vista anche della crescita e del miglioramento caratteriale per tante e tante generazioni. E così è stato, ma è passato e lo è tutto oggi. L'appello che i rappresentanti della società si sentono di fare è quantomeno di restituire questo importante strumento, il defibrillatore, che era stato appunto consegnato dal Comune. Allora, anche perché come diceva Andrea, oggi è difficile nel mondo del volontariato reperire risorse, immaginiamoci poi nel mondo delle società sportive, magari delle società che sono importanti, però non sono società gestite da maniati, da chissà quali persone che possono appunto introdurre dei capitali. E spesso si va avanti con qualche piccolo contributo e soprattutto quando si trovano degli sponsor. E quindi questo è stato un danno brutto. Io non capisco perché andare a colpire delle persone che poi, insomma, altro non fanno che del bene nei confronti degli altri. Era giusto dare questa notizia, ed è giusto, certo, sostenerli, poi chiunque voglia magari portare la propria solidarietà a queste persone, a Beppe Rampini, a Roberto, il figlio lo può fare andando in Via d'Almazia il lunedì e il mercoledì, ma ci sono anche gli altri giorni dove loro appunto portano avanti la loro attività, gli allenamenti e tutto. Prego Andrea. Niente, io volevo innanzitutto trasmettere tutta la solidarietà dell'Auser a questa società mineraria di calcio e siamo profondamente dispiaciuti per questo atto vandalico che non serve poi a niente perché se ti porti via qualcosa che puoi rivendere posso anche capirlo. Tra l'altro il defibrillatore ha un numero di serie e non si può mai provendere. Invece sulla questione del defibrillatore non riesco a capire che cosa ne possono fare questi perché ha un numero di serie, ha un registratore incorporato, ha tante di quelle cose che possono essere inconducibili al proprietario vero quindi non è una cosa che puoi vendere o che puoi adoperare poi un'altra associazione non l'acquisterebbe mai con una di dubbia provenienza come potrebbe essere questo quindi l'invito che faccio è restituirlo il più presto possibile. Poi per quanto concerne l'associazione noi come direttivo ci riuniremo fra qualche giorno guardate, economicamente stiamo attraversando forse il periodo dove ci sono meno risorse ma penso che noi per aprire quel discorso della solidarietà un piccolo contributo glielo riconosciamo a questa società per i suoi trascorsi, per quello che fa e per quello che potrebbe fare anche il futuro quindi con tutto il cuore tra l'altro quanto è non lo so perché questo è doppiamente ammirevole perché Andrea Piras come molti di voi che lo conoscono sapranno è il padre anche di Gianfranco che è allenatore è un uomo di punta del Carbonia quindi di un'altra del Carbonia Calcio di un'altra società ma nonostante questo c'è il volontariato la solidarietà ovviamente non ha confini non ha differenze o appartenenze e quindi è doppiamente apprezzabile quello che ha dichiarato poco fa insomma cerchiamo di sostenere aiutiamo liberamente e speriamo che che questi fatti non accadano più perché la nostra città già è in grosse difficoltà sotto tutti i punti di vista non ha bisogno di queste cose di queste cose nel modo più assoluto non facciamoci altro male così posso definire la cosa se c'è bisogno c'è bisogno che le istituzioni c'è bisogno che la società che la politica faccia qualcosa per questo territorio è l'iniziativa che dovremmo portare avanti per il 19 di aprile parlerà proprio di questo facciamoli tirare fuori anche le idee che hanno per il nostro futuro l'industria deve riaprire l'eroallumina e l'alcoa su questo non ci sono dubbi devono riaprire perché questo territorio non può vivere in queste condizioni diversamente dovremmo fare il conto non con quell'atto vandalico ma anche con cose più gravi insomma non lo vuole nessuno ecco perché è importante l'opera e l'azione di associazioni come l'Auser come Sardinia Solidale nelle scuole tra le giovani generazioni perché è lì che poi si forma il carattere il carattere dei giovani quindi delle persone ovviamente poi se la crisi economica è molto forte se non ci sono opportunità se non ci sono prospettive anche a causa della teoria cosiddetta degli specchi se ad esempio una città è abbandonata a se stessa in certi suoi luoghi se si creano dei danni se determinati episodi si perpetrano e non sono subito contrastati dalla cittadinanza dalla società civile dalle forze dell'ordine automaticamente danno origine all'emulazione all'aumento di altri episodi analoghi questo lo dobbiamo assolutamente evitare in maniera determinata la teoria degli specchi per chi dei vetri roti in realtà non degli specchi per chi non la conosce è quella secondo cui se tu in un determinato quartiere in un determinato luogo ad esempio rompi un vetro rompi un qualcosa e non lo ripari automaticamente altri vetri vicino a quello verranno rotti e quindi la situazione di degrado detta così in linea più generale va ad amplificarsi va ad aumentare ecco perché bisogna intervenire subito bene Andrea stiamo andando verso la fine della prima parte della trasmissione per il mese prossimo peraltro state organizzando un grosso dibattito un grosso incontro lo dicevamo in apertura dove si parlerà dello sviluppo economico del successo presente al quale parteciperanno degli ospiti molto importanti che nei diversi campi quello politico istituzionale quello imprenditoriale quello anche di nuova di un nuovo modello di imprenditoria insomma hanno in questo territorio tracciato dei percorsi molto importanti e rappresentano una realtà importantissima come relatori abbiamo personaggi importanti l'hai detto tu partiamo dalla Piras Maria Grazia Piras assessore regionale all'industria abbiamo Loredana La Barbera che è l'assessore alle politiche sociali del nostro comune abbiamo Salvatore Cherchi coordinatore del Piano Sulcis ancora Carlo Lolliri amministratore delegato della Porto Vesme Roberto Pudu della Camera del Lavoro segretario della Camera del Lavoro Antonio De Rio che è un imprenditore per ricordarle più che vorrebbe aprire una Ninetto De Rio è conosciutissimo e poi Antonello Piloni Antonello Piloni anche questo personaggio è conosciuto per i suoi trascorsi è stato uno dei precursori 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 di una politica nuova nelle cantine sociali quindi ha fatto diventare famoso il carignano nel mondo il nostro carignano anche lui ha da dire la sua abbiamo dato un tema le difficoltà geografiche chiuderà lui il convegno con questo con questo tema ci sarà anche Giampiero Farru perché lo voglio sottolineare ancora una volta il progetto è inserito in scuola e volontariato vuole dire che noi abbiamo un accordo con l'ufficio regionale dell'istruzione e con determinati con determinati paletti dove noi dobbiamo andare a parlare di cose che hanno interesse sociale a questi giovani stiamo parlando di giovani che comunque dovrebbero essere attorno ai 18 anni quindi pronti a entrare nella società voi perché devono smettere di studiare quindi cercheranno un lavoro o se no devono continuare a studiare come ci auguriamo quindi saranno le menti o i cervelli di domani ecco e questo gli servirà anche sentire un pochettino da queste figure che non andranno lì a fare un dibattito lo voglio chiarire subito noi intendiamo ascoltare il pensiero di loro per avere delle idee nuove noi nel nostro territorio abbiamo due industrie che sono in stand by ne abbiamo una che sta funzionando poi abbiamo tante di quelle possibilità con l'agricoltura con la pastorizia con il turismo che hanno bisogno di idee facciamo qualche cosa per migliorare il nostro stato economico perché non possiamo sicuramente andare avanti in questa maniera apriamo il dibattito la riflessione poi in realtà sono due l'industria perché ci sarebbe anche l'Enel che funziona insieme però in vigliani massima sì il polo industriale se non verrà riavviato in tutte le parti sarà depotenziato e non inciderà come nel passato poi vedo che nella platea comunque dei relatori ci sono persone che hanno cercato di puntare sul turismo lo stesso Piloni invece è riuscito a costruire insieme ad altri un'eccellenza si è riconosciuta a livello internazionale quella della cantina di Sant'Adi insomma quindi è possibile fare anche un altro tipo di sviluppo mantenendo l'esistente sempre se è possibile mantenerlo si sta lottando in tutti i modi però bisogna guardare oltre anche dunque parlando giusto delle cantine sociali prima il loro obiettivo era vendere il prodotto per il taglio quindi il nostro vino veniva venduto che so io al Consorzio del Chianti o addirittura in Francia eccetera Piloni è stato uno di quelli che ha detto va bene adesso ci inventiamo un prodotto selezionato di questo territorio che infatti il Carignano è iniziato a metterlo in barricca ha iniziato a curare tutto quello che è il percorso il percorso dalla vite fino all'uva e tutta questa selezione ha permesso una qualità incredibile io amo ricordare che il nostro Carignano di Sant'Azi ha superato addirittura il Brunello di Montalcino che in tutto il mondo quando parlano di vino italiano il Brunello di Montalcino come se fosse la cosa più buona di questo mondo beh in qualche occasione il nostro Carignano grazie a questo signore qui è riuscito a superare anche il massimo della qualità di livello nazionale ecco questo per dire che si possono fare tante cose eccellenti ma non mi voglio dilungare il carciofo siamo i produttori più importanti d'Italia in questo in questo territorio per quale motivo non valorizzarlo ma quello che deve essere l'indirizzo a mio avviso e poi chiudo perché se no 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 allora quello che dobbiamo pensare sei tu che devi parlare allora quello che dobbiamo riuscire a fare è che le eccellenze i prodotti di questo territorio i prodotti sardi che siano carciofi che siano formaggio che siano vini eccetera devono avere il consumatore sardo per primo noi dobbiamo essere i consumatori perché guardate bene che quando vai in un supermercato generalmente le verdure le verdure si parla di oltre il 90% vengono da fuori e quindi tutti i prodotti hanno l'alimentare giri attorno giri attorno ti giri attorno in questo territorio e vedi serre che sono abbandonate terreni che sono abbandonati ora anche anche l'iniziativa che sta portando avanti la CONAD eccetera ma sono lodevoli perché è il coraggio dell'imprenditoria a fare qualche cosa che va controcorrente perché sembra che qui debba siccome ma sempre perché sono collegate alla grande distribuzione perché altrimenti il piccolo produttore non riuscirebbe a reggere sul mercato ma il giorno insomma cercheremo di stimolare il dibattito perché non si è competitivi o abbastanza competitivi nelle proprie produzioni nel suo cese e perché ad esempio la cantina di Sant'Adi è riuscito ad esserla a differenza di tante altre tu l'hai già anticipato sono riuscito a creare un prodotto di grande qualità un valore aggiunto che poi riesce a competere nei mercati comunque l'appuntamento è per il 19 aprile è per il 19 aprile tutti i cittadini sono invitati quindi non è solo aperta assolutamente devo aggiungere un'altra cosa è la grande disponibilità del dirigente dell'istituto Giovanni Marian Gioi che è la professoressa Antonietta Cucheddu che in questi casi visto che il progetto è inserito in scuola e volontariato ci dà la massima disponibilità quindi saranno presenti diverse classi di quell'istituto e estenderemo anche l'invito ai cittadini ai cittadini di Carbonia e chi ha interesse in qualche interesse per ascoltare un dibattito così importante stiamo aspettando l'adesione della della sindaca Massinda dovrebbe sciogliersi oggi la riserva sulla sua presenza e abbiamo avuto invece per tutti gli altri per tutti gli altri compreso chi coordina l'incontro che ce l'ha a fianco abbiamo avuto già l'adesione formale quindi ci saranno tutti non abbiamo messo noi abbiamo l'abitudine di non mettere assolutamente persone che poi non ci garantiscono la presenza perfetto ringraziamo tantissimo Andrea Piras per le parole che anche oggi ha portato qui l'attenzione di tutti voi cari telespettatori soprattutto però per l'impegno che quotidianamente viene portato avanti dalle associazioni nelle quali lui è protagonista quindi nel mondo del volontariato nel nostro territorio a favore di tante persone che soffrono e subiscono bisogna dire così subiscono questa questa crisi economica e ovviamente l'appuntamento poi per i prossimi giorni nelle prossime settimane perché torneremo anche con altre trasmissioni per spiegare meglio ancora il senso del dibattito del 19 aprile e ovviamente anche per parlare delle altre iniziative di cui l'Auser e Sardegna Solidale sono incessantemente instancabilmente bisogna dirlo protagonisti in questo territorio perché sono veramente tanti gli impegni e gli ambiti nei quali operano intanto la prima iniziativa è quella del 29 quindi con la proiezione del film l'era glaciale con gli studenti dell'istituto Ciusa grazie Andrea un ultimo ringrazio come sempre tutti i volontari e quanti il giorno ci onoreranno con la loro presenza poi un'ultima cosa volevo fare i migliori auguri a mio nipote fisio che ha subito un intervento chirurgico che è andato bene insomma perché aveva un problemino alla spina dorsale e quindi un'ernia e quindi è uscito alla grande da questo problema i migliori auguri ne approfitto i migliori auguri da parte di tutti noi fisio perfetto grazie di averci seguito in questa prima parte appuntamento fra pochissimo subito dopo la pubblicità con un'altra storia molto molto interessante a fra poco grazie